Buonasera a tutti telespettatori, ci troviamo al campo gara per il primo rally internazionale, campo gara per occhio Piagione Pian di Laura. Primo equipaggio in gara questa sera, Tonelli Luca alla guida, Francesco Saviozzi copilota, 30 secondi al via, attenzione, momento è catartico, 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, partita la prima edizione del rally, velocissimi! Intanto partita anche la seconda auto del rally, c'è un giovane, un certo Colin McCree abbastanza promettente ma come vediamo non così veloce come è Saviozzi e Tonelli. Primo intermedio, sempre Saviozzi e Tonelli. E andiamo in camera car con Colin McCree, ragazzotto che non molla, non ci sta a sottostare a Saviozzi e Tonelli. Andiamo con il navigatore che racconta simpatiche barzellette all'autista per distrarlo e far vincere Tonelli e Saviozzi anche se non ne avranno bisogno assolutamente. Andiamo invece adesso a vedere Saviozzi, la sua abilità di pilota, non è facile, guardate l'intensità, non sta guiando. Passa davanti al Caterina senza schiacciare nessuno, non è facile, non è da tutti. Passa e continua, segui a tutta velocità dirigendosi verso l'ipercoff di sabato pomeriggio. Bisogna schiacciare una dronnetta col carrello. La sfida comunque è veramente dura, vedremo chi sarà il primo a tagliare il traguardo ad arrivare all'arrivo per primo. Stiamo aspettando l'arrivo della prima auto, vedremo adesso quale sarà il primo equipaggio per primo rally di Castellare. Tonelli e Saviozzi conquista naturalmente il primo posto. E' stato veramente difficile ma eravamo molto preparati, lo conoscevamo bene. Dopo aver fatto un filo di cocaino all'interno della macchina, poi eravamo super schizzati. Il mio copilota è stato formidabile, questa macchina è una bomba, cazzo. Yeah! Copilotti, a voi la linea.